Sox non aveva solo problemi di produzione della sorgente radioattiva dalla Russia. Ad affermarlo è il Forum dell'Acqua, che sottolinea come la Commissione Tecnica Regionale, che sovrintende all'applicazione della direttiva Seveso sugli impianti a rischio di incidente rilevante. Il 16 gennaio scorso, alla richiesta dei laboratori di non considerare Sox come un aggravio di rischio per l'impianto, aveva risposto di non poter escludere, sulla base della documentazione depositata, aggravi del rischio di effetti in caso di incidenti. Al centro dell'osservazione una delle questioni più controverse, quella di aver pensato di posizionare una sorgente radioattiva così potente, pochi metri sotto le 1292 tonnellate di trimetilbenzene infiammabile. Problema a cui si aggiunge l'inderogabile divieto di legge fissato per lo stoccaggio di materiale radioattivo nei pressi delle captazioni idropotabili, leggi acquifero sotto il Gran Sasso. Il Forum dell'Acqua con Augusto De Santis si dice soddisfatto per questa prima vittoria e chiede l'immediata messa in sicurezza dei laboratori con l'abbassamento del rischio di incidente dovuto alle migliaia di tonnellate di materiali pericolosi stoccati sotto il Gran Sasso. Nel frattempo si chiede di garantire la partecipazione dei cittadini per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna scaduto da ben sette anni. In senso più generale noi dobbiamo andare avanti perché attualmente sono stoccate irregolarmente 2300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose all'interno dei laboratori per due esperimenti, non tutti gli esperimenti, per due esperimenti LVD e Borexino. Devono essere allontanate queste sostanze pericolose secondo quanto prevede la legge. Bisogna fare il piano, nel frattempo, il piano di emergenza esterna che è scaduto nel 2011 addirittura da sette anni e secondo adesso sappiamo che la prefettura si sta organizzando per aggiornarlo ma bisogna farlo, come dice la legge, consultando la popolazione. Quindi abbiamo scritto a tutti i comuni, alla prefettura, chiedendo che siano fatte assemblee su tutti i territori, in tutte le comunità, che possano essere impattate in caso di incidente grave nei laboratori. Ricordo che i laboratori, proprio per quelle sostanze chimiche pericolose, sono in pianto a rischio di incidente rilevante. Nel frattempo l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso richiama l'attenzione sulle parole del vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, che ha garantito che la prossima settimana, dalla Commissione regionale sull'emergenza del Gran Sasso, dovrebbe uscire la proposta per la messa in sicurezza definitiva da portare al Ministero. Aspettando di conoscerla, polemizza sulla mancanza di un rappresentante della società civile inserito nella Commissione e sul silenzio rispetto alla richiesta di accesso agli atti per conoscere le ipotesi progettuali su cui si sta lavorando.